Una vera e propria tragedia sul mondo del calcio che ci ha buttato tutti sull'orlo di una crisi di nervi, per chi ancora non lo sapesse, hanno bloccato, cioè Instagram ha bloccato il profilo della Kosciona. La ragazza che abbiamo visto ieri seminuda barcare il campo del Vanda metropolitano, non lo so, già sono partite denunce, con ogni probabilità sarà accusata la nostra conoscenza, Vanda Nara, una persona che secondo me si è dimostrata invidiosa all'accaduto, fatto sta che Instagram appurerà cosa sia successo o meno. È un dramma, è un dramma sportivo, è una tragedia, noi tifosi non avevamo mai visto forse con tanta parsimonia un corpo del genere e adesso dovremo virare le nostre attenzioni su qualche altro sedere che non so se raggiungerà lo stesso interesse. Fatto sta che nella finale di ieri era stata una perla, una perla assoluta, il suo ingresso, la sua entrata in campo e non lo so, viene un po' rovinata questa finale di Champions, di cui si è parlato anche troppo, si è dato troppo risalto alla finale di Champions. Io avrei concentrato solo l'attenzione sulla cosciuna perché giustamente è l'argomento succulento e che merita attenzione, ragazzi, perché che ce ne importa della finale di Champions? Ma veramente interessa a qualcuno che Klopp abbia alzato la coppa? Cioè c'era una donna seminuda, una cosciuna e noi parliamo della finale di Champions. Io sono schifato, veramente schifato da questo interesse per cose futili. Quindi cerchiamo un po' di supportare la cosciuna che ha bisogno di noi, hanno bloccato il profilo Instagram. Almeno io, ma sicuramente anche il vostro pensiero, sono stato colpito da una crisi di nervi, non me ne capacito, mi dispiace, poi anche a me hanno chiuso di recente il profilo e vi metto sotto il mio nuovo. Ma sono dispiace, sono a terra, sono veramente... non lo so, non lo so. Supportiamo questa ragazza che ha bisogno di noi, ha bisogno di maggiore attenzione. Purtroppo si è messo poco in risalto questo nome e bisogna veramente essere un pochettino anche più equi e parlare della ragazza perché della Champions, lo ripeto ancora una volta, che se ne frega di Liverpool, che se ne frega di Klopp, quello che interessa è la nostra cosciuna. E ne va un po' non della... sicuramente non della nostra vita, ma ne va un po' del nostro... non lo so che dire, ne va del nostro fiuto da cacciatori, per cui veramente facciamo il possibile, sosteniamo la cosciuna, l'unica perla della serata di ieri e merita tutta la nostra attenzione. Io vi chiedo scusa ma sono veramente scioccato e... non lo so, spero di riprendermi e... non lo so, veramente scioccato. Commentate, likeate, iscrivetevi al canale. Un like per la cosciuna, grazie.